Non dimentichiamo il passato, assolutamente sì. Siamo nel regno del futuro, nel più grande evento di innovazione al mondo, ospitato in Europa, qui a Roma, e ringraziamo la Maker Faire e gli organizzatori che ospitano il nostro evento all'interno di questa grande manifestazione. Noi, CNA Next, ogni anno prova a fare innovazione, a fare contaminazione, che è l'elemento più importante in questo momento di grande crisi, di grande evoluzione, di cambio di paradigmi economici, e quant'altro cercare di riuscire a trasmettere agli imprenditori, vera leva economica di questo Paese, alcuni elementi importanti che tracciano l'innovazione. Oggi proviamo a tracciare l'identikit dell'innovazione, a misurare come le imprese possono migliorare il nostro saper fare. Che non è un qualcosa di semplice. In realtà oggi in Italia stiamo vivendo una grandissima crisi, che non è soltanto una crisi economica come ce la vendono, ma ovviamente è una crisi pesantemente istituzionale. È un cambio dei paradigmi, un cambio dei corpi intermedi, come il nostro, come CNA. E l'imprenditore vive una fase di calo, oltre che economico, che forse non è il vero problema, ma una fase di calo creativo. Cioè noi non riusciamo ad imporci più come una volta, non riusciamo a trasmettere meglio il saper fare come sapevamo fare tempo fa, scusate il gioco di parole. E questo è un problema. E l'imprenditore è troppo vessato da continue situazioni che riguardano le tasse, che riguardano la burocrazia e quant'altro e non riesce più a esprimere il genio creativo se ancora ce l'ha. Questo è anche un grande interrogativo che dobbiamo porci. Se ancora ce l'ha. E allora cosa bisogna fare? Bisogna assolutamente puntare su due leve. Il digitale e l'innovazione insita nel nuovo mutamento digitale e la creatività, il design. L'imprenditore deve puntare su questo, cioè l'Italia oggi deve cercare di far emergere il più possibile quello che è il nostro made in Italy. Theodore Levitt, che avete visto in una delle frasi che girava prima, che è un economista americano, professore dell'Harvard Business School, è morto qualche anno fa. Nel 1986 diceva una chiara cosa. Diceva che la globalizzazione porterà, come poi effettivamente è successo, lo stiamo vivendo, a un'omogenizzazione dei gusti, che porterà ad un'omogenizzazione delle produzioni. una standardizzazione, o come qualcuno la definisce, la McDonaldizzazione. Sottozione. Ed effettivamente questo sta avvenendo. Ce ne rendiamo conto. E paradossalmente sta colpendo quei paesi come l'Italia che hanno un'artigianalità, una manualità forte, che non riesce a star dietro a questa standardizzazione. Perché l'imprenditore italiano è individualista, per antonomasia. Cerca sempre di distinguersi, cerca sempre di fare un prodotto diverso dall'altro, che è la nostra forza. E Theodore Levitt diceva, nell'86, e speriamo abbia ragione, che la vera svolta economica del mondo, lui non prevedeva questa grande crisi, la vera svolta economica del mondo a questa standardizzazione è riuscire a creare dei prodotti di alta qualità, di nicchia, ma a un basso costo. E allora perché siamo qui oggi? Perché fondamentalmente i makers, questo grande movimento che ha bisogno di essere messo a terra, perché c'è una grande intelligenza, tanta creatività, ma tante volte in aria, non riesce ad atterrare, non riesce a concretizzare. E quel mondo lì è importante. Noi come CNA dobbiamo assolutamente porci da ponte tra questi due mondi, tra la grande tradizione, il nostro saper fare, la genialità dell'imprenditore italiano e questa nuova creatività, questa nuova spinta, questa natività digitale che forse alla nostra imprenditoria manca. E questo legame lo dobbiamo fare il prima possibile, perché loro possono aiutarci a produrre con grande qualità, con grande innovazione, ad un costo basso. Non è, non dobbiamo credere che il costo alto, il prezzo alto qualifichi un prodotto, sarà sempre meno così. È bene che ce lo mettiamo in testa. Oggi proveremo a far parlare, a coinvolgere alcuni degli innovatori italiani che ci spiegheranno alcuni elementi importanti di questi processi e di questi mutamenti. Lo faremo qui. Nel pomeriggio non ci siamo inventati nulla, semplicemente facciamo un processo di condivisione, di sfruttiamo le intelligenze. Noi abbiamo amato chiamarci Festival dell'intelligenza collettiva, perché crediamo nell'intelligenza collettiva, che possiamo anche dire conoscenza condivisa, se mi permettete. E la conoscenza condivisa, che è il vero futuro, proveremo a metterla insieme nel pomeriggio in nove tavoli di lavoro che proporranno policy, che faranno proposta, e ne ridiscuteremo domani mattina qui. Oggi avremo un assaggio di innovazione, nel pomeriggio ci caleremo dell'innovazione all'interno di questi tavoli, con chi parteciperà, e domani riporteremo quell'innovazione alle istituzioni che interverranno e a tutti voi che sarete qui. Per cui vi ringraziamo, iniziamo questo percorso e invitiamo chi ci ospita qui a Roma, perché noi siamo l'organizzazione nazionale anche se stiamo a Roma, ed è giusto che a Roma, che c'è l'organizzazione locale, si inviti a parlare il presidente, Erino Corombi, da CNA di Roma. Grazie, Erino. Grazie, buongiorno. Che ti sembra qui, che sei arrivato in questa mega fiera dell'innovazione? Beh, intanto è il secondo anno che vediamo... E qui è più grande però. Esatto, non basta, e sembra che già quest'anno non sia sufficiente ad accogliere l'entusiasmo e l'interesse a questo modo di approcciare l'innovazione. Certo che mi fa piacere che sia a Roma, e spero a quelli che siano venuti da fuori che Roma l'abbia accolti con una giornata splendida, in un posto splendido, con iniziativa splendida. Grazie caro, grazie davvero. Vuoi... Te ne vai subito? No. Ma questi giovani, questi giovani innovatori, tante volte anche minorenni, che suggerimento gli puoi dare? Perché riescono ad inventare qualcosa, ieri parlavo con tanti ragazzi che si sono inventati davvero delle cose che potrebbero funzionare, però non sanno cosa fare. Cosa possiamo dire noi? Beh, intanto continuate a fare. Lo dico perché come cittadino, girando, quindi visitatore, di quello che è un evento, ti incuriosisce proprio questo fatto, vedere questi ragazzi, anche meno giovani, che ti raccontano quello che hanno pensato e quello che hanno cercato di fare. Ora si vedono dei prototipi di legno che però andrebbero fatti a carbonio, immagina per un artigiano comprendere quello che stanno a dire è difficile, però la sfida è avvincente e questo lo dico da semplice cittadino. Poi da imprenditore invece ho un occhio diverso perché vedo che cercano di realizzare prodotti nuovi, nuovi modi di produrre e la cosa che mi affascina di più facendo un mestiere un po' vecchio applicare processi nuovi a prodotti vecchi. Quindi l'innovazione ci coinvolge anche a livello professionale. Devo dire che è un po' difficile seguire i linguaggi e credo che l'innovazione introduca nuovi modi di comunicare e credo che anche l'evento di CNA Next sia un modo diverso di rappresentare il mondo delle imprese e degli imprenditori. Ci proviamo, ci proviamo. Ti chiedo un messaggio, visto che parliamo di nuovi modi di comunicare anche, che lo chiederò a tutti, un tweet di speranza a questi giovani. Un tweet. Guardate, sono tre righe e non sono le mie. Avrei voluto... E nel tweet non c'entra, però vabbè, le passiamo. Sì. Devi leggere? Sì, perché vorrei seguire proprio la lettera. Un grande pensatore. Prima parlavi, non era prevista una crisi così. Sì, beh, quest'uomo qui l'aveva prevista e ha anche pensato. E a quel mondo giovane gli diceva dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova epoca. Nel frattempo, se vogliamo veramente fare qualcosa di buono, dobbiamo apparire eterodossi, importuni, pericolosi, ribelli nei confronti di chi ci ha preceduto. Questo è la John Maynard Keynes. Prima del trattato della teoria generale. Questo è uno stimolo, un augurio. Noi cercheremo di inseguirvi. Anche nei tavoli che preparate... Provateci. Esatto. Noi spiegiamo. Grazie. Grazie. Grazie a te, Rino. E adesso proseguiamo velocemente. E vi presento una persona che ci ha messo l'anima per questo evento, ha faticato tanto, è il suo primo evento, mentre io sto qui e sto qui da cinque anni e continuo ad essere qui. Per lei è la prima volta, per cui trattatela bene. Stefania Amiro, la Presidente di CNA Giovani Imprenditori. Grazie, Luca. Buongiorno a tutti. Ieri sera a cena, quando stavamo un po' discutendo degli ultimi dettagli, ho chiesto a Luca che cosa dirò domani, che intervento faccio. E lui ha detto di quello che provi. E quindi faccio outing e vi dico che sono veramente molto emozionata per questo quinto festival dell'intelligenza collettiva, ma il primo che, tra virgolette, conduco insieme alla Presidenza. quindi non aspettatevi grandissimi discorsioni da me, potete tranquillamente distrarmi, no scherzo. Perché abbiamo deciso quest'anno di fare il next all'interno della Maker Faire? Questa idea nasce da una chiacchierata fatta con Riccardo Luna, gennaio, in cui mi aveva suggerito perché non fate quest'anno il next all'interno della Maker Faire? Ne abbiamo discusso all'interno della nostra Presidenza, valutando un po' i pro e i contro. avevamo timore che essendo in un evento così grande non riuscissimo ad affermare la nostra identità e quindi che il next si perdesse un po' rispetto alla sua tenera età e alla sua storia comunque, che dall'inizio, da quando è partito quattro anni fa a Torino, comunque è cresciuto molto. Però poi ci siamo anche detti ma noi continuiamo a parlare di collaborazione, di rete, tra di noi, con tutti, perché ci stiamo facendo questa domanda? È giusto esserci perché è giusto comunque essere in quel contesto. Noi sono anni che stiamo lavorando come giovani e anche come CNA per affermarci e per conoscere questo mondo dei makers, delle imprese innovative che sicuramente ancora non ci appartengono come l'artigianato tradizionale e quindi ci è sembrato corretto esserci proprio per far sì che anche i makers, anche le start-up innovative considerassero la nostra organizzazione CNA come l'associazione di riferimento. Non tanto per il vecchio concetto delle associazioni, di lobby, di difendere degli interessi, ma proprio per trovare un partner per sviluppare la propria idea. E l'altro concetto che ci interessava molto e vogliamo molto lavorare quindi per essere anche qui è proprio il far incontrare il makers innovativo con l'artigiano tradizionale. Siamo convinti che da questo connubio, da questa sinergia possiamo davvero far ripartire l'economia di questo paese, l'imprenditoria giovanile. Quindi questi due mondi apparentemente molto distanti tra loro in realtà hanno tantissimi punti in comune e possono davvero fare la differenza per il nostro paese, per la ripresa della nostra economia. E per questo motivo che abbiamo dato anche a questo Next un'impostazione leggermente diversa rispetto alle precedenti edizioni e quindi oggi pomeriggio faremo una serie di tavoli di lavoro. Non abbiamo sicuramente scoperto l'acqua calda, quest'anno soprattutto i tavoli vanno molto di moda e quindi anche noi volevamo non essere da meno e seguire la moda. Faremo questi nove tavoli dedicati sicuramente all'innovazione ma anche al nuovo modo di fare impresa che abbiamo individuato come per noi nove driver per far ripartire appunto l'economia tavoli in cui ogni imprenditore che parteciperà imprenditore non potrà dire la propria opinione raccontare la propria esperienza in maniera tale che riusciremo a creare un documento un manifesto politico, un output chiamiamolo come vogliamo che non sia di protesta ma che sia un documento di proposta di miglioramento e di far emergere anche quelle che sono le difficoltà di un micro imprenditore perché comunque siamo ancora convinti che in questo paese si conosca molto poco di quella che è la nostra identità quindi ci interessa molto che alle istituzioni e alla politica presenti domani ma non solo perché comunque ne faremo un po' il nostro manifesto diciamo così vogliamo fare in modo che queste cose emergano ma anche e ci vogliamo mettere in discussione anche per quanto riguarda la nostra organizzazione quindi cosa i giovani imprenditori si aspettano dalla loro organizzazione cosa sono in grado di offrire e che tipo di supporto oggi come oggi ci si aspetta visto che siamo proprio in un momento di grandissimo cambiamento non entro nel merito dei tavoli perché comunque avremo modo nel corso della mattinata di sentire un po' i vari temi ringrazio fin da subito i nove facilitatori che hanno deciso di darci una mano in questo lavoro gratis amore dei di sabato e di domenica e credo che non sia un fatto assolutamente scontato perché comunque persone sottraggono tempo la loro vita la loro famiglia per dedicarci del tempo del sapere per aiutarci in questo percorso perché comunque tutti insieme solo tutti insieme davvero possiamo possiamo farcele possiamo riuscirci sembrano frasi fatte sembra demagogia sono invece proprio convinta che l'imprenditore ormai da solo che è un po' tipico anche se vogliamo del nostro mondo non sia più nelle condizioni di poter anche sopravvivere a questo mondo a questo sistema quindi grazie davvero a tutti quanti prima di salutarvi lasciare davvero la parola a chi un contributo effettivo ve lo darà in questa giornata vi volevo leggere una frase di Enrico Moretti nella nuova geografia del lavoro che è un libro per me molto importante lui dice che nei prossimi decenni la competizione globale sarà incentrata sulla capacità di attrarre capitale umano e imprese innovative ecco noi stiamo cercando di attrarre imprese innovative ma di far diventare innovative anche le nostre imprese prima di salutarvi volevo che per quest'ultimo momento che la presidenza nazionale dei giovani imprenditori mi raggiungesse qui perché se questo evento riuscirà se riuscirà bene non è merito soltanto mio non è merito soltanto di Luca ma è merito di tutti loro e di tutti voi che siete qui in sala presenti quindi vi invito a questa sorpresa a salutare il pubblico ah Giampaolo mi raccomando prepara il grembiule perché credo che tu la scommessa con Luca l'abbia persa forza lo fate i timidi volete pure parlare? no grazie a tutti sono i volti di mesi e mesi di lavoro di scambi di mail di scommesse perse qualcuno dovrà girare con dei cornetti in sala riceverete dei cornetti anche voi non vi preoccupate che qualcuno dovrà portare in grembiule così l'ho detto pubblicamente sei vincolato e bloccato per cui grazie davvero poi tanto vi incontreremo dopo grazie grazie ragazzi grazie a tutti grazie a tutti